Buongiorno, sono Alessandro Lotto della Nutrista e sono il direttore tecnico. Sono all'interno di RumiRab, un laboratorio che è nato per analizzare foraggi, mangimi concentrati, diete per illuminare la latte. La nostra attenzione perciò è concentrata moltissimo su una branca della dieta, che è il foraggio. Da anni siamo concentrati anche su questo aspetto qui. Abbiamo creato una linea, Erba Latte, la quale ha una molteplicità di foraggi che ovviamente analizziamo da dieci anni, con forte intensità. Per noi è importantissima questa parte della dieta. Il foraggio è veramente qualcosa che fa cambiare la qualità del latte, la rende il latte più buono e permette di valorizzare tantissimo un prodotto eccezionale come formaggio, in particolare premisore, giallo, ma non solo. Il concetto del titolo dell'incontro che si terrà a 31 a Villa Foscarini, organizzato da Open Farm, è che noi siamo ciò che mangiamo. è estremamente vero, in quanto con questo nuovo strumento che ci permette di analizzare il latte, siamo resi conto che gli aspetti teorici che conoscevamo sono veramente pratici e abbiamo constatato un cambiamento della qualità del latte notevole. ha beneficio, volendo, della salubrità del latte, ancor di più di quella che è intrinseca nel prodotto e sicuramente ci aprirà nuove prospettive. Certamente possiamo fare un'affermazione, i foraggi sono indispensabili, la diversificazione di foraggi sono indispensabili, i foraggi sono la base per fare un buon latte. Ci vediamo il 31, il giorno prima della giornata mondiale del latte, vi aspettiamo.